In piazza per dire no a rigassificatore di Piombino, l'ipotesi avanzata dai tecnici di Snam di collocare un terminal gas su una banchina della nuova area portuale di Piombino, in città non sembra davvero piacere a nessuno, né ai sindaci né ai partiti politici che con sfumature e tempi diversi hanno preso le distanze dal progetto fortemente voluto dal governo. Questa mattina in piazza Bovio i comitati cittadini hanno organizzato una maxi manifestazione per ribadire la loro contrarietà, una protesta allargata anche ai proprietari delle imbarcazioni e ai pescatori che hanno risposto presenti, anche i sindaci della Val di Cornia hanno partecipato numerosi dopo la giornata fiorentina di ieri trascorsa nelle stanze della regione. Questa piazza e le barche intorno ci dimostrano che non c'è più rassegnazione, ma c'è voglia di dire no. Un no per motivi di sicurezza, perché nei procedimenti amministrativi qualcuno ci dovrà dire perché all'Olt di Livorno le imbarcazioni non possono attraversare il raggio di tre miglia intorno a quell'impianto. E qua invece quella nave che farà lo stesso identico servizio può essere parcheggiata per due o tre anni dentro un porto, un porto che è dentro la città, qualcuno ce lo dovrà dire.